mamma per lucky ciao dorian è un bambino grande ha un anno bianca e carl gli faranno vedere i loro posti preferiti al parco giochi ecco una macchinetta a gancio dove puoi vincere delle sorprese hai preso qualcosa no e questa è una pista con le macchinine il posto preferito di carl cucù mi stavo nascondendo dorian sento lucky andiamo a cercarlo lucky lucky dove sei oh ecco le sue orecchie oh aiutami a tirare si puoi aiutarmi oh eccoti guanciottino sono così felice di vederti cosa ci fai qui noi dorian aspetta io e mini me stiamo giocando a nascondino e voi mi avete trovato ma dov'è mini me no no non voglio più giocare a nascondino tirami fuori dobbiamo forse sta cavalcando il delfino hai visto mini me oh i delfini azzurri delfini avete visto un piccolo coniglietto giallo no non l'abbiamo visto possiamo cavalcare il delfino forse dovremmo guardare nel mare mini me e se fosse andato a fondo dovremmo controllare meglio guarda ci sono le piante marine e le alghe ti piace a dorian piace molto qui guarda ci sono le alghe ti piace molto qui e giù controlliamo lo scivolo dorian prendimi dorian andiamo a prendere lucky lucky sullo scivolo Andiamo! Hop, hop! Uno, e due, e tre, e quattro! Su! Cinque! Siediti! Ed ecco il nostro Lucky! E... Sta scappando, sta scappando! Prendilo, prendilo! L'abbiamo preso! Eccomi! Dove mi state portando? Ehi! Dove andiamo? Oh! Ai! Al mare! Oh! Salto? Ok, andiamo! Ehi! Oh, mi piace un sacco qui! Lucky si è completamente dimenticato di cercare Minime! Ecco un altro castello! Ci sono tre scivoli che portano a una piscina con le palline di plastica! Andiamo! Oh! È divertente, ma... Non c'è Minime! Oh! Bravo a nascondersi! Lucky, vieni qui! Ho una grande idea! Prendi il motorino e vieni! Arrivo! Salto, saltino! Hop! Sniff! Lucky arriva in un baleno! Lucky, mi dispiace, abbiamo un nuovo guidatore! Reggeti forte! Metti i piedini qui sugli appoggi! Via! Sugli appoggi! Via! Oh, i passeggini! Forse Minime si è nascosto nel suo passeggino! Vado a dare un'occhiata! Cosa ne pensi? In quale passeggino è Minime? No! In questo no! È troppo grande! Oh, questo, questo, questo! Guarda! Eccolo! Oh! Ci sono anche un mini ciuccio! E biberon! E anche un sonno alieno! Wow! Oh, hai sentito! È solo Dorian che sta giocando! Con i polpi! Mmm... No! Sembra il rumore di un tuono! Ascolta! E io sento il rumore di qualcuno che mangia! Non è il dinosauro! Minime! Ecco dove ti stavi nascondendo! Nell'orto delle carote! Sono felice che ti abbiamo trovato! Sono buone le carote! Num nem 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 nem! Nemi nem nem nem! Hop! Mmm! Num nem nem nem! Mamma! La mamma andà da mangiare a Lucky! E Dorian andà da mangiare a Minime! Mmm! 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 Che buona la carota! Ora rimettiamo queste deliziose carote finte nell'orto! Provaci! Va lì! Ottimo lavoro! E una va qui! Guarda! Con la punta! Bravo! I piccoli vogliono del latte? Mucca! Ecco il biberon! Puoi darci un po' di latte per Mini-Me? Sì! Sdraiati Mini-Me! Ecco la pappa! Questi piccolini ora faranno un sonnellino! Mentre loro dormono, noi possiamo giocare ancora nella piscina con le palline! No! Questo è per Mini-Me! La bottiglia con l'acqua vera è per Dorian! Mini-Me! Mini-Me! Dorian! Mini-Me! Dorian! Vado alla piscina di palline! Venite a cercarmi! Mi nascondo! Lucky! Dove sei? È nascosto proprio lì! Trovato! Trovato! Ti è piaciuto? Mamma! Giocare a nascondino con noi! Allora, guarda altri nostri video! Penseremo a tante altre interessanti avventure! Ciao! 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 !